Protezione. Odio le cose molli. Protezione. Devastazione. Questa palla è arrabbiata. Lancio. Il tempo scorre. Tutto passa. Perché corrono? Non so cosa li fa funzionare, però so cosa li rompe. Impulso. Che strano. Urlano. Sì, sono un'arma. Impulso. Impulso. Devastazione. Siamo come uno. Si smontano così facilmente. Come si rimontano? Motivazione. Andiamo. Lancio. Perché continuano a rompersi? Questa palla è impaziente. Impulso. Protezione. Lancio. Devastazione. L'omicidio è un bel gioco. Protezione. Quando cadi, ti rialzi. Ho delle cose appuntite. Molto emozionante. Devastazione. Mi ricarico. Ho delle cose appuntate.